quelli che la sera del 5 agosto suonano in darsena perché c'hanno i figli da mantenere quelli che c'hanno bisogno dei dischetti sennò non sono in grado quelli che prendono le rotonde contro mano quelli che ti consigliano il malo quelli che rosicano quelli che non vogliono i cani in spiaggia poi loro lasciano giù bottiglie di plastica sacchetti cicche di sigarette e tutto il resto quelli che vanno dal dentista per farsi fare un ponte sullo stretto quelli che sono lì al posto di un altro quelli delle scie chimiche quelli che non ti scrivono un libro ormai è una minoranza quelli che non hanno ancora capito dove si mettono le H quelli che ti vogliono dimostrare che la terra è piatta quelli che sono di centro-destra ma guardano a sinistra quelli che sono di centro-sinistra ma guardano anche a destra quelli stramici ooooh Quelli che non ha i tratti somatici tipicamente italici Quelli che ballano solo la disco anni settanta Quelli che ascoltano solo jazz Quelli che fanno i leoni da tastiera Quelli che con la tastiera ci fanno un piccolo solo Quelli che fanno i leoni da tastiera Quelli che votano Trump perché c'è un bravo parodiere Quelli che non mettono le mutande Quelli che ci hanno un prurito intimo Quelli che dicono le parolacce per telefono ma solo in dialetto Quelli che siamo tutti delle brave persone Quelli che la libertà è partecipazione 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 Come sempre in queste situazioni non si sa mai come chiudere Dovremmo metterci d'accordo Ecco una maniera sarebbe quella Facciamo che il prossimo giro in ogni caso è l'ultimo Quelli che la libertà è partecipazione Che ognuno ha chiuso a modo solo Ovviamente non ero provato Grazie e buonanotte Grazie a tutti